Ciao ragazzi, allora iniziamo questa giornata con una ricca colazione. Qui abbiamo cappuccino, della spremuta d'arancia freschissima appena fatta, zucchero e una bella brioche ripiena di marmellata appena presa dal bar. Allora, oggi pranzo a casa dei miei genitori, abbiamo optato per questo piatto freddo, che tra l'altro è anche un piatto super veloce da preparare. Dunque, qui abbiamo delle crepe al formaggio, che a vederlo in realtà sembrerebbe un sofficino, però è una crepe al formaggio cucinata all'interno del forno per renderla più leggera e non oliosa. Poi qui c'è del pane integrale brustolito con del formaggio sopra, queste sono delle uova sode con della salsina yogurt, prosciutto, formaggio dato dalla nostra vicina che deve essere buonissimo perché ha un profumo davvero invitante, mozzarella e poi della pancetta coppata da bere Coca-Cola Per dolce, profiterò al cioccolato con panna montata. Allora, qui abbiamo tè caldo alla pesca già zuccherato e biscotti. Allora, come primo ho preparato questa buonissima zuppa d'orzo e legumi, perché fuori fa abbastanza freddo e avevo veramente voglia di una bella zuppa calda, mentre è da bere semplicissima acqua naturale. E per secondo abbiamo patatine cotte nel forno, petto di pollo grigliato, due fettine di limone e del pane. Vale più Hej då! Allora, fatta di pollo grigliato,